Aprirà a settembre il cantiere dei lavori per la demolizione e la ricostruzione del ponte della Tambura sulla strada provinciale 50 di Vagli, chiuso al transito dall'aprile 2020 per motivi di sicurezza. La provincia ha appaltato i lavori in questi giorni. L'ente di Palazzo Ducale ha proceduto ad approvare la determina dirigenziale che affida l'intervento alla ditta Vando Battaglia Costruzioni di Gallicano. Nel mese di settembre, come detto, si aprirà il cantiere che, in base al progetto redatto dalla provincia, prevede interventi radicali di ricostruzione e messa in sicurezza della struttura, su cui tra fine 2019 ed inizio 2020 erano stati effettuati sagge verifiche che avevano evidenziato serie criticità. Problemi che poi avevano indotto l'amministrazione provinciale a chiudere il transito al ponte sulla strada 50 per motivi di sicurezza, relativi in particolare ai mezzi pesanti. L'intervento, la cui durata è stimata in 12 mesi, prevede la demolizione dell'impalcato del ponte e delle pile, nonché la successiva ricostruzione con caratteristiche funzionali e prestazionali, in linea con le attuali normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.